allora ho fatto il video per video precedente da quello come togliere gli ziri naturalmente un sotterfugio allora dopo un po mi ha mandato un messaggio mio alunno nembrini che è di quinta e dunque molto bravo molto attento mi segue sempre super professionale e mi ha detto guardi che il modo corretto non è quello ma è un altro allora ma ma suggerito e oggettivamente ha ragione ragione mio era semplicemente un sotterfugio invece il suo è il modo corretto dunque semplicemente come faccio vado in strumenti ok così vale per tutti il mio era semplicemente un sotterfugio per il singolo invece così vale per tutti e questo diciamo è l'ottimo dunque vado in opzioni clicco qua strumenti opzioni ok vado in proprietà del documento vediamo se arriva ok proprietà del documento ok vado poi in quote vado giù fino in fondo ok vado giù fino in fondo e le quote posso metto sia le quote rimuovi che così vanno in automatico dovrebbe e soprattutto rimuovi le tolleranze funziona anche rimuovi solo su zero ok entrambi ok proviamo dunque quote rimuovi tolleranze rimuovi ok vado a cliccare qui qua naturalmente sarà un iso modificato ok perché diventa facendo questo lui per lui è un iso modificato clicco qua ok a questo punto diventa come volevo dunque il top è non è quello del video precedente ma è questo video e dunque ricapitolando è andare su strumenti opzioni ok proprietà del documento strumenti opzioni proprietà del documento clicco qua col tasto sinistro andare in quote e in quote e a mettere quote rimuovi e tolleranze rimuovi ok dunque ringrazio l'alunno membrini che è proprio bravo ringrazio per il suo aiuto e lo ringraziamo per questo video perché certe volte uno non ci pensa perché naturalmente lavora in azienda e dunque questo probabilmente sarà settato in automatico ok però se uno installa nuovamente solido e così via bisogna ricordarsi di questa cosa che torna molto comoda ok ci vediamo alla prossima arrivederci